maria è la sua sessione eccoci ciao a tutti allora la causa di tutti i problemi di oggi aspetta sì è che abbiamo già smosso tanto stamattina e ci vedono troppi o troppo attivi e quindi volevano cercare di bloccare oggi pomeriggio va bene conto da 51 ti connetti maggiormente a maria che ci ha parlato dei suoi punti 5 4 3 2 1 dimmi come la veri allora la vedo vestita da ballerina col tutù con in mano un arco però diciamo che rappresenta i suoi due aspetti la sua parte femminile ok che è molto presente però vuol far vedere anche che lei è combattente che ha arco in mano e che quindi se si arrabbia lei può anche attaccare ecco ok ti dà l'autorizzazione maria sì ok ma quanto vibra maria due milioni e mezzo la stessa ma abbastanza percentuale di consapevolezza 150 per cento discretamente alta psp ps 42 pp e 58 dite precedenti 1813 cervello percentuale utilizzata 8 per cento come vedi maria in generale in generale la vedo allora la vedo come se mi fa vedere una parte intorno a lei che tipo una come se fosse un un cilindro o che intorno a lei che si apre si chiude per accogliere le persone quando arrivano intorno a lei e come se fosse debita ad accogliere i bisogni degli altri ok però lo sente come un dovere e non come un piacere quindi lo è un po questa cosa lei non la vuole non la vorrebbe più la reputa una cosa incastrante della matrix proprio così mi era arrivata proprio questa cosa lei si sente bloccata da questa cosa per invece fare il suo salto evolutivo un po quello che diciamo dalla mattina alla sera aiutare gli altri è la peggio cosa che si possa desiderare come obiettivo di vita no come se desiderio principale aiutare gli altri è un'ottima scusa per non ammettere che si può aiutare solo noi stessi poi vedo che ha questo forte desiderio di andare via dalla matrix ma come fuga come proprio come fuga e quindi ha una grossa rabbia qua perché vorrebbe proprio fuggire ma non c'è non lo vedo come una cosa liberatoria ma proprio come una fuga per non affrontare per non affrontare quello che il gioco della matrix fa ok cosa riserva il gioco della matrix a maria a maria le riserva tantissime opportunità per poter aumentare tantissimo la sua consapevolezza quindi vedo proprio come se lei camminasse sulla sua sulla linea della sua vita sulla matri nella matrix e ogni tipo dieci passi più o meno arriva gli arrivano come un avendo camminare su questo sentiero e ogni dieci passi gli viene messo davanti un cartello con scritto quell'esperienza quale opportunità le da di crescita quindi se lei cogliesse tutti i cartelli potrebbe evolvere di consapevolezza molto velocemente una grossa parte in questa vita potrebbe fare i cartelli sono interferenze se sono interferenze che lei si crea per evolvere non chiamiamoli i cartelli interferenze ogni interferenza si presenta col cartello che ce ne sono di due tipi un falco di eric e metalli no con le teri che ti sto dicendo quelle teri che con le mentali non le ancora guardate allora quelle teri che sono due c'è quel c'è falconi forme e c'è un amantide due famiglie quindi se sopra sopra vedo di noi zeus che collaborano e quindi è come se una volta manda al comando dino e la volta dopo zeus poi dino e poi zeus così alternato secondo universo no ma in questo caso no ok entità mentali mentale ce ne sono tre sono di basso livello ma collaborano tra loro sono due tre quattro di livello insomma quattro già faceva se con due tre media cosa che compito assolvono allora quella di due è quella che se le fa aprire le braccia con chiunque ok quindi chiunque c'è potenzialmente lei lei aiuta si chiunque e quindi così fa perdere il tempo che potrebbe dedicare a se stessa e di conseguenza anche alla sua evoluzione quella di quella di livello 3 è la parte è la parte che la fa che la rende guerriera quindi attaccante ma con rabbia c'è aggredire alla vita ecco a rendere ripeto la vita ma con risentimento cioè adesso vado di casa andate tutti a colpa e così insomma sì esatto quindi con delle vibrazioni basse a volte queste due dimmi da cui da cui le sue vibrazioni basse sì sì esatto a volte vedo proprio l'interazione tra l'entità mentale di livello 2 livello 3 quindi livello 2 gli dice aiuta questa persona che lo tra gli dice però queste persone interferisce con la tua vita e quindi si arrabbia quindi c'è questa cosa questo paradosso che tiene le vibrazioni basse anche questa cosa qua quindi a volte lavora solo la due volte solo la tre volte la due a tre assieme e lì è più pesante c'è nel frattempo maria che sguignazza aduisce purtroppo si purtroppo si riconosce abbastanza in toto la quattro sono curioso di sapere cosa fa allora la quattro è hanno la quattro ma allora mi viene che la quattro è quella che gli fa la farla destabilizza non la fa sentire mai adeguata mai al posto giusto nelle situazioni un esempio posso dire anche rispetto che ne so rispetto al suo lavoro ok è quello è molto evidente lei non si sente adeguata tal punto da potersi mostrare da sola quindi a far le sue mostre per lei le personali ok quello è un esempio oppure anche quella che le fa dire la parola sbagliata in maniera tale che non è adeguata per la situazione le dicono cosa stai dicendo o conosce a un vernissage la persona giusta per una sua futura personale e non coglie l'occasione magari esatto e questa persona capisce che non è all'altezza quando in realtà è all'altezza e bastava giocarsi la carta in maniera naturale istintiva sì esatto ok si chiama qualche modo le 3 2 4 2 3 4 la 2 mi viene sfera la 3 si chiama mark e da 4 fulmine mi dice 7 ok questi nomi li vedi come dire come se fosse un numero di serie no di una macchina live di impress e l'entità mentale da qualche parte o sono nomi che ti danno così a caso giusto per tenerti per darti una risposta perché te la devono dare ce l'hanno davvero un nome l'entità mentali allora di solito si hanno proprio un nome ed è un nome che in qualche maniera rappresenta il loro compito che magari per noi non è evidente ma è un nome che usano anche tra di loro tra virgolette l'entità mentali per indicare il compito che hanno in quel momento con quella che si vera buona per la questa sfera per la questione dell'aiuto perché perché si gli creano proprio una sfera dove lei accoglie dentro le persone è quello che vedevo prima mark mark viene tipo come marchio mi dice mi dice io attraverso c'è a lei faccio faccio mettere un marchio non so cosa intende cioè quello che vedo è che quando lei si espone con rabbia è come se venisse marchiato dall'altra parte c'è bellina in adeguatezza la faetta che ti colpisce sì e quando poi arriva ci sono i pl allora ce ne sono tre dentro e due fuori fanno da postino mentre l'entità mentale è l'ufficio postale tre dentro e due fuori quindi tra più 25 ok ci sono impianti però scusami prima degli impianti guardiamo se ci sono delle entità mentali collettive scoperte oggi che sono un po le gregore se vogliamo è il le forme pensiero una giornata quella del cinivac tutta quella che è la forma pensiero legata al cinivac la paura che fa il cinivac l'obbligo paventato del cinivac la paura di quello che c'è dentro tutta quella cosa lì è una ne gregora una forma pensiero diciamo che la descrizione più articolata più precisa è quella di entità mentale collettivo se se la vedo più se perché se perché racchiude proprio tutto quello che le entità mentali diciamo legata all'individuo fanno quindi vedo proprio come se mandassero le informazioni così e questo enorme entità mentale collettiva le raccoglie tutte sono no 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 in questo caso 1 ci sono ma non non si aggancia lei riesce a non agganciarsi quello che vedo è che in questo momento diciamo questa linea temporale in questo momento ce ne sono tante che girano ma non sempre tutti sono collegati a delle forme a delle entità mentali collettive ci sono tante pronte se si c'è la rispona su alcuni alcune persone ma questo c'è bene c'è la la regola forma pensiero entità mentale collettiva arrivano agli alieni che ci invadono no vedo arrivano che arrivano gli alieni che ci aiutano vedo io bene che anche peggio si anche i soliti cazzo lei adiani di maledetti siriani 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 insieme a nibiru che non so se non c'è cioè ti vedo due cose diverse non so se poi vedo nibiru e siriani che attraverso le persone sulla terra interferite in maniera pesante quelle senza anima rettiliane sono riusciti a convincere una parte di popolazione mondiale che arriveranno loro ad aiutarci a salvarci questa è una delle cose più pericolose in assoluto chiedere aiuto è questo il centro della sessione l'aiuto chiedere aiuto aiutami lucio aiutami aiutami bravo per l'aiuto che ci dai no sbagliato sbagliatissimo sbagliatissimo arriverà al salvatore arriverà a gesù arriverà al nuovo messia tutto sbagliato tutto sbagliato tutto sbagliato chi pensa così non ha capito niente non poco niente niente zero zero assoluto e mentre dico queste cose tutte le ps le pie del mondo vanno a vedere l'assurdità di quella entità mentale collettiva quanto è finta quanto è un bel progetto pronto quanto è una bella fregatura e quanto altrettanto altrettanto all'opposto è molto coerente il pensiero che siamo noi che salviamo noi stessi che siamo noi i creatori di noi stessi di tutta la baracca che siamo noi dio noi siamo dio i siriani sono dei poveretti sono dei pezzenti sono dei poveracci sono dei quacquara qua i siriani non sono niente non hanno niente non possono alzare non si possono inventare la pillola v men che meno la vic non la possono assurre si bruciano chiama un siriano qualunque portiamolo qua poverino un bel segniano bello potente allora non riesce a essere poi c'è visto proprio quando tu dicevi tutte queste cose no quindi anche la pillola bibic così ho visto arrivare siriano il più potente ma non c'è essendoci questa consapevolezza palese lui non può più essere potente è arrivato piccolissima c'è prova da un po va bene gli stringo la mano entro nella scena gli stringo la mano è così piccolo gliela metto in testa lo prendo in mano come king kong ok gli do tutto il mio amore la mia vibrazione brucia sì più più tu mandiamo le vibrazione e più di scompare ok questo fatto viene esposto a tutti a tutti entità mentale collettiva del nuovo messia c'è inizia inizia a vacillare con questa consapevolezza inizia a vacillare vedo proprio è come se fossero dei dischi no le entità mentali collettive e vedo proprio che questa inizia a come se si secasse no quindi come se si idratasse e inizia a perdere i pezzi inizia proprio a vacillare a dissolversi con questa consapevolezza facciamo un cappotto a tutti queste entità mentali collettive tutte quante sono quante ne vedi se vedi un numero preciso o un ordine momento ne vedo circa 50 però ti dico ci adesso mi è venuta per l'italia quindi ne vedo 50 qua e più nel mondo o di meno si è come se l'ho visto adesso è come se l'esta la stessa l'entità mentale collettiva a seconda di della parte del mondo si deve un po adattare cioè è come se francia ne ha di più la francia 35 adesso sono messo proprio bene noi l'australia quante ne ha nostra linea 70 ma tutta una parte nostra deve essere bloccate quindi ne hanno messe tantissime 70 perché deve essere bloccata l'australia l'australia deve essere bloccata perché allora li hanno messo ecco le rivedo di nuovo ci sono dei tre vasi militari enormi sotto tre vasi militari alieni enormi sotto e non può la gente deve stare lì e stare controllata di quanto enormi quanto quanto una città quanto uno stato quanto la regione lombardia la sicilia quanto grande io vedo che la strada infatti io vedo che è tutto l'australia praticamente le tre basi sono talmente grosse che sotto la ocula la coprono tutta e una parte delle tre addirittura si incrocia sono veramente loro più piani di una roba gigantesca ma lì sotto sacrifici uomini tutto ne fanno di più è come se fosse una parte molto importante perché come se facessero il punto della situazione di ogni volta no quindi come se fosse una rielaborazione dei dati delle informazioni dice tutte le altre basi per il mondo fanno non sono le più importanti ma sono tipo l'archivio tipo la ma la riaborazione andiamo una pioggia infinita di vick vibrazione informazione consapevolezza tutta in australia sopra sotto dentro fuori dove volete vi comunque vibrazione non esiste una vibrazione che abbia un limite in alto si può alzare a qualunque livello informazione di tutte le mie sessioni consapevolezza di conseguenza a tutte le pie e le ps del mondo specialmente dell'australia l'abbiamo già distribuito in tutto il mondo va bene maria gli impianti te lo chiesti no 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 allora ce n'è uno qua dietro sulla testa un po dietro poi ne ha uno più o meno a livello del plesso solare appena sopra sullo sterno appena sopra il plesso solare poi ne ha due sulle cosce una destra una sinistra due sui polpaccio una destra una sinistra e due sul dorso del piede una destra la sinistra ok maria a un ob a 21 anni cercava di averla non c'è riuscita e per quando meno se l'aspettava è successo ed essere spaventata molto perché una voce femminile mi sembra di ricordare no le parla come una mamma riproverandola dolcemente su piccole scelte di vita che aveva preso a 21 anni di questo ragazzo non va bene per te studi troppo poco studi troppo cose così insomma allora quello che mi è venuto prima è che potenzialmente questo poteva essere un buono strumento per lei perché non è facile bisogna utilizzare in quel momento lì lei ha usato il suo cervello molto in alto perché per fare una cosa così non è semplice cioè i nostri poteri devono essere allenati molto bene ok il fatto è che li ha per spaventarla è arrivata interferenza che le ha parlato per far sì che lei non lo facesse più perché si stava allenando proprio bene il suo allenamento era stato molto efficace e questa interferenza di che natura disincarnato un amanti dopo alcuni forse era la martide era già la mantide era già la mantide va bene chiamiamo il fratello e i due figli nel barrio dirà che tuo marito al cinema ad assistere alla sessione quindi ad aver già come assistito a tutto quello che abbiamo detto finora più tutto quello che avverrà da adesso in poi figli si sono messi seduti felici di essere al cinema fratello fratello è arrivato vestito stravagante tipo ai presenti come si chiama quel arrivato proprio vestito tipo sei quel mago di quei biscotti di garbusera ti ricordi ok ma gogi ecco vestito così dicono la tuba sembra allora lì davidaci sì poi un papillon rosso mi ricordo male ti dico quello di un papillon rosso e vestito a righe bianche gialle quindi il presentatore dello spettacolo del circo più o meno voleva essere quello masacito ma gogi punto g ma che c'è di gulgar buserone abbiamo fatto anche la pubblicità e quindi è un tipo estruoso si si originale di far vedere se se c'è lui vuole uno di essere visto io ci sono e mi faccio vedere il marito che ho deciso di chiamare però sembra marito si è arrivato si è messo di fianco ai suoi figli accettato l'invito in maniera neutra vediamo che si è poi ho visto arrivare anche una signora però c'è un'altra signora ma la madre non mi sembra disincarnata mi sembra la madre disincarnata no è mancante è mancata signora viva chi è un'amica potrebbe essere una zia potrebbe essere sia una zia vivente quindi non so ma te lo dice se tu glielo chiedi te lo dice se mi ha detto sono una zia sono tutte morte dice maria e rive vabbè sia che qui sia nel cinema e si mangia poi i pop corn chiamiamo invece la zia disincarnata una zia acquisita di maria con la quale tuttavia lei ha avuto sempre un rapporto di grande complicità amore odio veniva speramente criticata ma sempre anche con una certa ironia dalla crea dalla zia e la zia poi alla fine le ha nascosto delle fasi importanti della sua vita e quando è mancata ha lasciato tutto a un fidanzato di cui nessuno sapeva nulla e no che insomma la nipote d'esseretta la zia per l'eredità però la nipote c'è rimasta comunque male perché è come una forma di il riconoscenza no quella di non lasciare neanche una spilla o di non lasciare un ricordo alla nipote con cui ha trascorso tanti anni tante telefonate tante visite tanti scambi di idee aiuti probabilmente chiamiamo la zia la vedo arrivare tra in gingheri con tanti gioielli tutto un po sul pezzo nota così dice che maria ride perché tu fai le descrizioni tutti i personaggi esattamente come lei li conosce se di morire ride devo dirlo perché poi non si vedrà maria no nel video che ci sarà accessorata quindi è interessante e dice che le ha dovuto far così perché è un contratto che è stato firmato già da due generazioni prima la famiglia chi col fidanzato con il marito fidanzato quello cui ha lasciato tutto no il contratto nel cluster a e quindi il contratto era questo che c'era una parte vedo così vedo che come se per la terza volta terza generazione la famiglia ok che prima magari partiva omogenea a livello economico ok poi doveva finire che tutta una parte doveva essere normale e tutta una parte va essere ricca ok quindi la distribuzione della ricchezza dove andare tutto da una parte nei classi perché non è ok perché non da maria data da uno sconosciuto verso uno sconosciuto perché divino doveva arrivare più lo sconosciuto era puramente effettivamente innamorato o in qualche modo ma no ma no io vedo che è come se lo sconosciuto è stato messo lì apposta dalle interferenze per far sì che la zia portasse avanti questo contratto è stato che ma lui era interessato da se la zia fosse stata povera sarebbe stato noi no no e quindi è interessato sì va bene che volete dire la zia alla nipote anche se non sembra ti ho voluto tanto bene ma proprio il tuo carattere io non lo comprendevo e mi spiace di non averte lo detto in vita questo era voluto via ok io posso maria chiamare anche i tuoi genitori topato mamma giusto ma che chiamiamole dai che mi sembra anche un pochino più corretto i genitori apriamo per tutti e tre portale aureo che mi stessi presentano tutti e due genitori se vogliono dire qualcosa sono arrivati a braccia ma la mamma e papà sono arrivati a braccetto la mamma dice dice scusami se ne sono andata così ma proprio io non riuscivo a a capire come fare a stare meglio non ce l'ho proprio fatta il papà sostiene la mamma e dice a maria ti ho voluto e ti voglio bene questo ok grande spettacolo adesso si apre il portale aureo come vedi questa apertura allora la vedo più o meno sempre come se fosse come se ci fosse un tapirula ok si apre tipo un cerchio tipo una porta cerchio una porta e quelle dell'astronavi si quella specie di come 0 7 la sigla no si apriva e si sparava all'omino no all'omino sparava sì così e poi dietro la coppia che non lo so io lo vedo gradioso io lo vedo lucente quando si apre una specie di abbaglio da di proprio data una cosa così sì 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 è una cosa che ti lascia lascia ti lascia senza fiato così è come se tiri devi stare un attimo di fermo perché veramente io la chiamo l'energia perfetta non so come dire l'ideale proprio l'ideale la vedo è il posto ideale in cui vanno i disincarnati non possono andare in un posto migliore no si liberano in automatico di tutte le interferenze vanno esattamente a tornare energia a essere energia poi da lì possono pure decidere come ho già detto un'altra sessione di reincarnarsi in una scimmia o in un contadino del medioevo che fa la fame mangia le radici delle piante però si vengono scelta loro da lì si riparte più potenti più più vere più puliti esatti più puliti perché è pura energia quello che noi siamo nel caso di un disegnamato senza ps la stessa discorso alle papie c'è ecco lì dentro dando un'occhiata veloce non sono tante ps qua e più pie più ps e vedi come delle forme energetiche che volano no si vedono siccome degli aggregati c'è che fluttuano dentro questa cosa a bene o male si equilibra nel senso che cambia ogni momento e quindi si equilibrano cioè potrei dirti adesso magari sono più vps però un attimo prima c'erano più p e perché a me vengono era neutro come posto vanno tutti e tre si si sono già entrati quando sono andata dentro vedere la zia quando entrato ha perso tutti i gioielli vestiti costosi se tutto per tutto diventano propria energia mi serve tutto nemmeno allora chiediamo il portale aurea e andiamo avanti parliamo di la della fattura un prano terapeuta le parla e le dice che ha avuto una è stata fatta una fattura che lui l'ha tolta lei si chiede se sto prano terapeuta le ha fatto qualcosa allora no era in buona fede secondo me ha visto il contratto del cluster ha visto quel contratto del cluster che stava seguendo la zia e l'ha tolto aveva un po nel senso che se non vai a toglierlo nel cluster se non vai tu sembra esatto se se c'è a sembra l'operatore sembra assolutamente di sena credo in quello stesso periodo perché nello stesso punto le sente un attacco di una presenza che come se le salisse sul corpo a gattoni nel 2019 lei si cura e ferma ha fermato con se stessa no vattene qualcosa del genere e tutto è finito insomma allora lì è stanzi c'era una potenziale altra interferenza dichiaratura in ando un rettile arrivato proprio sta avvicinando per interferire e lei è stata consapevole l'ha sentito proprio era allontanato lì è proprio il modo ha sperimentato il modo ideale per far sì che le interferenze non interferiscano cioè quindi questo è il potere che abbiamo noi noi possiamo tutto e questa lei ha sperimentato lì che è una cosa abbiamo visto oggi una telecinesi ancora che abbiamo visto oggi è una potere no quale si tanti aspetta aspetta una capacità medianica no quella di rifiutare fare i ball rimbalzare su noi stessi le interferenze la capacità che hanno le 300 per le fossi sono ok l'ha fatto altre volte allora così evidente diciamo che anche lì si è allenata inconsciamente cioè ci vuole un certo allenamento che uno magari si porta da un'altra vita è ok però diventa subito palese che tu lo fai ma in questo caso lei si è allenata inconsciamente forse consapevole che funziona così quindi magari ha sperimentato qualche volta oppure si è ripetuta qualche volta che quando si avesse mai sentito delle energie negative o qualcosa che si avvicinava doveva dire no io non ti voglio con questo allenamento in qualche maniera quella volta lì la ha sentito la presenza e l'ha allontanata ok cause sottirica del mal di schiena da quell'impianto che acqua l'interno appena sopra se a che serve manda messaggi da quello che ha dalla testa fino lì e poi vi scaricano a terra poi come se da terra poi vi prendono ciucciano l'energia è come se la risucchiassero da terra e mentre l'energia risale prendono tutta la sua energia e le informazioni del suo corpo tipo una rastrellata se un atto causa esoterica della spalla destra dolorante o con dei problemi non vedo tanto una cosa esoterica più lo vedo proprio come un affaticamento fisico e non c'è la causa esoterica no 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 del fatto che esternutisce da dieci anni senza una causa parente no vedo che tutte le volte che lei star notisce e come se buttasse fuori vedo tipo una pallina energetica bianca potrebbe essere come se le riuscisse in alcune alcune volte ok allora adesso visto cosa succede a volte passa un certo di mandano un certo impulso una certa informazione ok e tutte le volte che provano a mandare quell'impulso quindi formazione è come se lei se ne rendesse conto e stanno tendo la butta fuori è una roba strana quindi una protezione informazione preferita sì sì c'è un po non ce la fai le tue i tuoi quadri non valgono niente cose così insomma ok va bene non c'è bisogno di stranutire per dieci anni per ok adesso lo diciamo alla ps ma adesso lo vedrà direttamente difficoltà a parlare e qui ci riuniamo anche al suo mestiere da pittrice di mesi se è l'interferenza di livello 4 se quindi dico e si esprime male ma insomma non le vengono le parole dalla butta impressione di sé l'impressione sbagliata e questo si riflette anche sul suo lavoro lavoro di pittrice nel quale crede tuttavia ha sempre avuto paura di fallire e di associarlo a un aspetto economico quindi a una vendita le opere sono arte l'arte non ha un valore economico il denaro male così questo genere tutto questo lei lo vuole cambiare il denaro non è male ma è energia il suo lavoro il suo lavoro ha un valore assolutamente e non ha nessuna paura di fallire allora sono due due cose diverse che però interagiscono insieme allora la paura di fallire di non essere all'altezza così è data dall'entità mentale di livello 4 invece il denaro è male il denaro l'arte non deve è una cosa bella quindi non deve essere pagata deriva fa parte del contratto crudo il cluster della famiglia dell'azia che ha seguito l'azia per cui lei eramo che non doveva vivere una vita normale non deve essere povera ok posso dire la città in cui hai vissuto sì c'è stata una parentesi new yorkese anche molto lunga insomma new york l'ombelico del mondo scena artistica molto vivace molto fervente tuttavia lei espone ma mai in una galleria come se non volesse riconoscere la propria maturità artistica sempre in luoghi alternativi e negozio mobili il ristorante alla moda ostaci ma posti che possono accogliere l'arte ma in maniera molto alternativa e creativa e senza essere delle vere gallerie lì si può vendere ma non c'è l'ufficialità e la il contorno di una galleria d'arte dove con una personale o con una mostra di più artisti sia comunque una presentazione più seria e più ufficiale causa esoterica di tutto questo allora diciamo che lei ha accolto il messaggio della sua ps quando si è trasferita new york che gli ha detto qui è il posto dove tu puoi imparare a lavorare con la tua creatività e con il tuo dono ok quindi quella parte lì è stata favorevole e l'accolta poi però c'era comunque l'interferenza dell'identità di livello 4 che ha fatto sì che lei non potesse farlo neanche la ok quindi si azzardava un po ad esporre i suoi quadri appunto nei ristoranti così ma non si è mai azzardata a fare una sua mostra che non poteva non poteva perché appunto i soldi non erano l'arte non poteva portare i soldi e lei non era adeguata però l'esperienza new york è stata molto molto proficua e l'ha aperto tantissimo è stato proprio la vedo come quando l'è arrivata lì vedo la scena quando l'è arrivata e la vedo in mano con i pennelli sui colori e tutto quanto e vedo questa espansione della sua creatività e della suona quindi quella è stata molto bella come cosa perché new york così importante nel mondo perché è diventata la più importante città del mondo forse quella in cui tutti vogliono passare almeno una volta andare almeno una volta e non come l'immagine che mi è arrivata è come se ci fosse un perno che vada lì a tutto cioè fino al centro della terra sotto ok e come se ci fu come se fosse una una volta panoramica una ruota panoramica ma in orizzontale ok e tutti i bracci di tutte le cabine sono delle linee energetiche ok e quindi è come se ruotasse queste energetiche ruotassero intorno al perno di new york su tutto il resto del mondo perché cioè era una condizione preesistente per cui è lì che è stata fondata una città o new york è diventata dopo per qualche motivo no lì è stata creata new york perché c'era il perno ok a new york si svolgono sacrifici sì sì tanti quanti in australia no 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 se ne svolgono di più di un'altra zona degli stati uniti un altro giusto il il parco che c'è non so perché ti chiedo questa cosa come si chiama il parco che non mi viene mai senza il park central park cosa c'è sotto quel rettangolo è curioso questo parco io non ne conosco la storia però in una zona dove ogni centimetro quadrato ha un valore inestimabile hanno creato un pacco gigantesco rettangolare cosa c'è lì sotto la prima immagine che è venuta quando aveva fatto questa domanda e ho visto proprio come una gabbia esattamente della misura del parco un rettangolo così eterica 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 dove fanno anche dove mandano anche fanno alle adduzioni eteriche ed è come un passaggio cioè è come se fosse uno st un primo posto dove le persone che vengono adotte in eterico si devono fermare e poi vanno svistate nei vari programmi progetti ecco una cosa così una base una baggi e chi abita a lungo i perimetri di central park allora la ricetta nella circone la circone fa parte della è come se la vedo nel nel direttivo di questo controllo di questa barra di questa si chiama prigione ecco ok come se ci fossero ci sono cinque soggetti principalmente che stanno lì vicino e controllano i vari movimenti e lei è una di questi ma lei ancora viva no quello è un clone a volte un club io vedo tutte e due di lei vedo sia il clone sia l'attrice ma spesso è il clone di tipo quando controlla il clone a quanto si saprà che questa è un clone e che la vera non c'è più alla situazione attuale dammi una data e come fanno a dimostrarlo mi viene tirata precisa ne è venuta data precisa 13 marzo 2022 come fanno come fanno dimostrare che non è lei il clone spariranno tutti c'è quelli morti spariranno tutti non ci saranno più cloni né attori non ci sarà più i cloni li fa fuori sì ma il clone è un uomo non c'è anche una donna artificiale è una roba artificiale quindi quando vedo vedo proprio come se viene distrutta una che può essere una base aliena una base aliena che dà energia ai cloni ok e questi tipi di cloni ad alcuni di questi cloni che è una struttura artificiale non è un ologramma ma creata con informazioni comunque ok quindi nel momento in cui questa base viene distrutta tutti i cloni spariscono questi cloni qua controllati l'ultima domanda sulla ciccone il numero di persone che ci ha rimesso le penne per il successo e lo spella diciamo nella quale nel quale lei ha vissuto allora per lo spell nel tempo 15 milioni di persone nei vari anni nel suo spell con il suo spell persone reali legate a lei che ci hanno rimesso la vita ne vedo 70 proprio su diretti va bene anzi va male ma va bene lo stesso va bene maria cosa vuole fare la maria è diretta mi mi prende per mano e proprio questa scena mi prende per mano e correndo va verso il cluster ai dai vediamo così le nocce della cani seguiamola vediamo cosa fa da sola ok altro che noi non possiamo aiutarla quindi possiamo soltanto dirle guarda e lì ma ci sono un sacco di aquiloni contratti aquiloni sera i contratti liberi come aquiloni perché l'aria volano colorati anche colorati perché lei ha capito li vede così perché gli è stato chiaro che sono che sono aria che sono come aria che che sono niente che non contano nulla ad racconto che non contano nulla quanti sono 1813 come le vite no ma è venuto 2354 ok cosa ne vuole fare sta aprendo un portale ha fatto un disegno e si è aperto il portale definitivo conosco che ha fatto un enorme soffio e con le norme soffio sono entrati tutti nel portale definitivo bene adesso sta chiudendo così ha fatto ha rifatto ora cosa vuole fare dove vuole andare si è girata versione ha detto che domanda l'avatar ha detto che domanda del no che che domanda fai l'avatar mondiamoci come lo vedi allora io c'è veramente perché lo vedo allora l'avatar si è praticamente messo intorno il quadro della gioconda ok e lui al posto della gioconda e diceva mai così volete cioè lui al quadro al buco del viso lì si è messo sì sì come il veneto dell'avatar scusami a bella gioconda perché la pittura chiaro sì sì tu la piparia esatto come questo farsi in un quadro visto che vedi solo il viso di fatto come lo vedi vedo solo la sagoma rotonda no quindi rotonda come un viso vedo l'incavo degli occhi cioè non ci sono gli occhi ci sono solo le fosse vedo una protuberanza per il naso e poi vedo qua vedo due frutture aranze con una riga e mezzo per la bocca insomma proprio un manichino moderno dei negozi di oggi a volte questi manichini sono hanno anche una superficie tessuto o non proprio di plastica a volte anche di plastica ma o di legno si adesso va tanto il tessuto no perché poi magari si appunta con uno spicco gli spesa puntare parrucche si appuntano degli accessori si possono con lo spillo infilare nel tessuto in uno strato magari di tessuto sono dei pupazzi ovviamente va bene via tutto ok lanciato e ha chiuso cosa rimane dell'interferenza di maria dopo queste due azioni niente vedo un po diverso dal solito nel senso non c'è più niente il solito vedo uno spazio libero vuoto ma è e neutro quindi c'è niente adesso lo vedo uguale ma è come se fosse ricoperto di uno strato di pittura come se lei ce l'avesse messo con le mani ma bello è una pittura bella rilassante accogliente però il trucco veneziano ecco sia una cosa così quindi molto liscio di qualità di classe ok quale è la vibrazione finale di maria 10 miliardi ok ha preso la pillola caramella vinc se si si era presa già prima che consapevolezza 183 per cento era già alta 150 al psp e più o meno 42 58 non è che siamo così il massimo infatti era 5 adesso e 51 51 ps 49 la piega di per sé sì sì vite precedenti 1203 cervello 9 m 8 9 e mezzo ok corpo emozionale tutto posto sì sì presenza di basse frequenze no 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 dato via tutto chi altro cosa fanno nel cinema cosa fa il fratello fratello adesso si è cambiato di abiti non è più vestito così ma è vestito da tipo supereroe senza una lettera particolare ma una tuta tuta aderente nera e un mantello azzurro che preferenze ci sono giusto per vederle solo ce ne ha quattro allora collaborano un po tutti allora c'è c'è un rettiliano un foco uniforme c'è un felino oite e c'è un grigio ok collaborano si alternano un po come vedo come se è come se gli creassero un'immagine artifici da spiegare e allora è come se si mettessero assieme e ogni volta gli creano un'immagine di realtà diversa no questi mette essere uno scenario una scenografia un filtro un filtro e quindi lui vive quel filtro lì e a seconda del filtro prendono l'energia da quel filtro lì con quel filtro lì è come se non so uno vedesse una zona degradata di una città poi gli danno degli occhiali con delle lenti speciali e quelle di speciali fanno vedere ville di lusso palme bambini ricchi in bicicletta ricca su bicicletta ricche quindi è come se lui il giorno vive in una favela e nello stesso posto il giorno dopo vive in una reggia è ok e da questo vedere le cose in maniera diversa loro riescono ingannandolo la consapevolezza di questa visione è a disposizione se lui lo vuole cogliere la può cogliere la consapevolezza di maria è di maria ma il suo esempio può essere d'aiuto per il fratello per i figli per il marito che sono lì nel cinema che hanno volontariamente accettato questo invito e si sono presentati volontariamente con desiderio di di vederle queste cose certo del cinema ci sono i cartoni contenitori di pop corn per tutti pieni di vick uno le mangia se si loro quattro le mangiano tutti anche fratello lavorata un po strana no e poi una cosa che sta facendo con questa cosa in mano come se chiedesse a tutti i soggetti che l'interpreta che esatto se va bene e quindi ho visto proprio in un istante fatto sì 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 e poi messo bene una cosa strana che ho visto è che quella signora di prima che diceva di essere la zia se n'è andata a quella che non sapevamo chi fosse vabbè un tanto meglio sì sì maria allora ma richiede se ci sono ancora i suoi impianti ma impianti entità le eventuali abduction coloni tutto andato tutto via non è possibile il contrario dopo l'avatar e dopo il cluster sono cambiate il numero di vite sono cambiate tante cose perché perché uno non vengono annullate le informazioni vissute in queste vite quindi è stata eliminata non so una vita in cui si è stata impiccata ingiustamente per fucusata ingiustamente per furto ma quella esperienza tu l'hai fatta la ps decide di eliminare quella vita perché non le serve più e le dà fastidio come ti puoi proteggere da ora in avanti come si può proteggere da ora in avanti il messaggio finale della sua ps che risponde a questa domanda e che da un'informazione generica e un messaggio numerico già messaggio finale allora dice allora potenzialmente se tu ti alleni come hai fatto quando eri giovane puoi fare quello che hai fatto cioè sviluppare la tua dote medianica che hai usato per uscire dal tuo corpo e usarla tranquillamente per viaggiare uscire andare ovunque e potresti farlo velocissimamente ma dato che quell'esperienza è stata traumatica perché si è stata interferita potrebbe essere potenzialmente che poi se la rifai così puoi aprire dei canali di nuovo dove entrano interferenze quindi allenati in altra maniera l'allenamento che stavi facendo inconsapevolmente ti mandare via l'entità dicendolo lo puoi continuare a fare quello è un buon allenamento e un'altra cosa che avevo già visto prima quando lei faceva la meditazione con il respiro se lei la abbina fa solo senza meditare nel senso fa dei respiri ma per aumentare le vibrazioni questi respiri possono aiutarla ad allenarsi a proteggersi dalle interferenze e quindi abbinato al allenarsi a dire di no stare fuori sarà molto efficace e circa la pittura circa la pittura al gioco come adesso nelle condizioni del qui e ora di questo momento lei apre la porta esce la prima persona che incontra che nel suo ramo sarà quella giusta per dire che le farà fare una mostra tutta sua a cui lei con le condizioni di oggi non avrà dubbi si sentirà sicura e andrà dritta sparata mettendo le sue opere come la vedi adesso la vedo pronta col suo cavalletto a dipingere la sua nuova vita dice sto dipingendo la mia nuova vita benissimo va bene abbiamo finito elena quindi porta tornare disconnettiti da tutto e tutti